Ciao cari amici più scattori, sono qua con Super Sandro Ciao ciao Oggi vediamo insieme tutta quanta la serie Veritas PLX che adesso è importata ufficialmente in Italia Sì, con grande gioia di Sandro Sì, grande gioia sia mia ma anche di moltissimi di voi perché io ricordo che il primo a farle arrivare sei stato appunto te con questa importazione un po' esclusiva che ci fu un po' più di un anno fa ormai Ah sì anche due, praticamente cosa è successo, cronistoria della faccenda, noi avevamo addocchiato queste canne perché ci sembravano molto belle già al tempo in cui sono uscite negli Stati Uniti Sì È una canna di cui adesso parleremo anche a livello di caratteristiche e quant'altro Buon segno da parte appunto di Pure Fishing che per l'Italia ha deciso di importare una serie di quanto sono? Nove canne Sei casting, tre spinning Sì, esatto Che vanno a creare una bella gamma Sì E adesso dato che tu hai avuto esperienza con questi attrezzi sull'acqua in maniera concreta andiamo a vedere anche magari un po' oltre che caratteristiche generali un po' modello per modello in modo da orientare chi voglia acquistare queste canne Certo, sì, questa è un'ottima serie di canne che possono essere a mio avviso il pretesto per il pescatore che vuole fare un investimento fare una spesa e dire bene mi faccio una serie di canne che non ho per andare a coprire un po' tutte le tipologie di pesca Tra l'altro senza svenarsi perché sono canne che comunque hanno dei costi relativi rispetto alla qualità che hanno Qualità prezzo sono delle gran canne Diciamo vi do dei prezzi indicativi ma poi vi consiglio andare a vedere il link qui sotto al video perché ovviamente i vari modelli hanno prezzi diversi diciamo che variano circa dai 110-120 fino ai 140-150 però per le caratteristiche generali della canna sono veramente degli ottimi apprezzi Sì, infatti è una canna che in America è iconica perché rispecchia assolutamente quello che è l'attrezzo, non la chiamano neanche canna da pesca l'attrezzo da pesca per il pescatore non solo medio ma anche chi fa quello step in più magari i primi tornei e quant'altro Assolutamente, si sono viste sulle gare Sì, assolutamente, si vedono sulle gare infatti è iconica anche perché per il suo colore Molto riconoscibile Sì, sì, è molto aggressiva quindi è una canna che in America già da qualche anno sta facendo parlare di sé ed è sempre uno dei best seller un po' in tutti i tecolstore Sì, nella gamma di Abu e nel tecolstore in generale è sempre molto ben in vista Allora, diciamo che a livello di caratteristiche generali abbiamo delle canne beh, intanto dove viene utilizzato materiale di qualità nel senso abbiamo sia i composti 3M, le resine Powerlux che si vede anche qua la sua bella scrittina che sono una garanzia di qualità 3M è un'azienda che per quanto riguarda le resine per i carboni è veramente esclusiva solo di alcune aziende che possono anche permettersi questo tipo di collaborazioni 3M è un'aziendona sono quelli che hanno inventato lo scotch, tanto per capirci hanno comunque anelli con gambo in titanio hanno comunque manici e placche personalizzate insomma non è la classica canna da mezza bigogna messa un po' lì no, assolutamente io ripeto, avendo avuto la possibilità di usarle già da un bel po' e usandole parecchie ore al giorno ho visto che sensibilità, ottimo bilanciamento anche con poi i mulinelli che andremo a vedere magari dopo con quello che si potrà inserire la leggerezza perché questa è l'ultima versione appunto delle serie Veritas e c'è stato un miglioramento sia in peso e ovviamente usando la Powerlux anche a livello di resistenza certo, si chiamano PLX proprio perché è l'acronimo di Powerlux che è appunto la resina di 3M c'è stato un bello scalino per chi si ricorda delle Veritas di serie precedenti che rappresentavano una certa fascia di prezzo ma non con questo rapporto appunto di qualità questo secondo me è il punto fondamentale le canne che vengono importate sono delle monopezzo vogliamo cominciare a tastare il terreno e a vederne, andare a passarle magari un po' a lista e magari metto in sovraimpressione poi durante il video i modelli sì certo allora diciamo che abbiamo 3 canne beh innanzitutto abbiamo 2 7 piedi una da 5 ottavi e una da 1 oncia da casting potenza 5 e potenza 6 che sono dei capisaldi cioè sono delle canne molto importanti diciamo che i primi 3 modelli come hai detto tu per quanto riguarda il casting vanno a rispecchiare un po' le 3 canne che assolutamente una persona che pesca o che comunque sta iniziando a decrementare la sua serie di canne deve avere quindi era 5 ottavi l'oncia e l'oncia e mezza sì 5 ottavi l'oncia e l'oncia e mezza tra l'altro la canna da un'oncia è una canna come ti dicevo prima fuori onda è una canna che io per esempio ce la doppia perché usandola già da un po' di tempo ne ho capito al massimo quelle che sono un po' i suoi usi che vanno oltre il solito uso da canna da un'oncia classica che può essere usata jig texas certo e stop questa c'è un'azione molto particolare che ti permette anche di usarla io personalmente la uso tipo a chatter bite la usa spinner bite a top water jig and warm quindi jig texas eccetera eccetera quindi è una canna che secondo me se un pescatore la prende doppia assolutamente non sbaglia perché è versatile cioè se riesci a usarla anche con esche di reazione esatto che non è una cosa comune spesse volte in tante serie la 5 ottavi invece quindi il modello precedente cioè prima a livello di potenza sì io l'ho battezzata come canna da gerk assolutamente la sto usando anche con dei piccoli top water tipo il nuovo berkeley streeder che ragazzi fa paura però va bene adesso questo è il momento di faremo vedere che è quello in futuro sì certo poi invece c'è la canna da un'oncia e mezza se non sbaglio un'oncia e mezza sette e tre ecco allora molti di voi pescheranno in zone dove c'è erba dove ci sono delle cover dove c'è insomma un po' quello che è il centro del divertimento per pescare a bus fishing la cover sì quindi esatto quindi è una canna quella un po' più muscolosa da avere assolutamente anche questa allora faccio un appunto visto che siamo andati su appunto a vedere queste prime canne ad esempio la sette piedi 5 ottavi che tu hai battezzato come canna da gerk vi dico nelle nostre precedenti importazioni indipendenti sempre tramite ovviamente l'ufficialità di pur fishing abbiamo importato anche degli ulteriori modelli che adesso noi abbiamo comunque alcuni pezzi a catalogo ad esempio della 5 ottavi c'è anche la 6 e 6 canna leggermente più corta quindi può essere un'ulteriore variante troverete poi sul sito e sulle schede che vi linko qui sotto identificate in un modo abbastanza chiaro quelle che sono le canne di importazione ufficiale che ci sono sempre mentre quelle che sono delle canne un po' extra che possono andare a completamento magari della gamma per chi vuole comunque magari la canna leggermente più corta o leggermente più lunga in questo caso ad esempio ci sono alcune canne 6 e 6 ma ci sono anche delle canne ad esempio sette piedi e 6 come non c'è mezza sette piedi e 6 che non è attualmente una canna che fa parte della gamma importazione ufficiale ok quindi cosa abbiamo detto queste prime tre canne sono la 5 ottavi e l'oncia e l'oncia e mezza e sono capisaldi poi abbiamo una canna che loro hanno diciamo identificato come canna frog quindi canna lunga sette piedi e 6 da un'oncia e un quarto certo io ci posso anche aggiungere un altro ottimo uso che può essere da carolina assolutamente canne da carolina si preferiscono lunghe per i lanci e si preferiscono di una certa potenza perché solitamente si pesca carolina rig quando c'è del vento quando si fa fatica a lanciare quindi diciamo che solitamente per chi è abituato a usare già i pre rig fatti difficilmente lì si trova sotto i tre ottavi certo dopo lì si trova tranquillamente da mezza oncia quindi è una canna che io potrei battezzare tranquillamente oltre che da rana anche da carolina rig certo poi è seconda di come uno va a montarlo a livello di mulinello e fili e quant'altro poi sui mulinelli vi ricordo che sono usciti fuori tutti quanti i nuovi Revo quindi su cui farò in realtà prima o poi una recensione a parte perché sono i mulinelli che stanno avendo un ottimo riscontro questo esempio è il Rocket quello super veloce poi c'è l'SX sì diciamo che abbiamo selezionato tre range di mulinelli che poi in questa serie di canne potrebbe andare molto bene abbiamo preso il Rocket che è un mulinello con un recupero molto veloce è un mulinello con un recupero 10 poi abbiamo l'SX che invece ha un recupero 6 che va molto bene diciamo è il classico mulinello all round quindi se uno vuole farsi tra virgolette la mano con un tot di tecnica di pesca e da avere al massimo il feeling con tutti i mulinelli uguali diciamo che questo rientra un po' nel recupero classico standard recupero 6 e il Winch esatto qui abbiamo il Winch che invece è un mulinello da lavoro sporco ossia un mulinello molto potente da usare per eschi di reazione crank e swing bait in primis quindi va molto bene lo uso anch'io questo qua crank anche crank dip è un 5 4 a 1 e funziona molto 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 bene sì ho detto anche swing bait perché appunto nonostante sia compatto palmabile ma è molto molto forte quindi non ha una bella capacità di filo rispetto agli altri è una bobina più profonda sì certo però diciamo che comunque la media dei mulinelli Revo di tutta la gamma Revo è avere una bobina piuttosto capiente sì vedo sì sì certo quindi si può usare anche con tagli di filo abbastanza assolutamente importanti che poi alla fine serve nel casting insomma quindi eravamo arrivati alla Frog abbiamo dopo un'altra canna un po' particolare che inizialmente io ce l'ho ho avuto un attimo da interpretarla ma è estremamente utile che è la treonce è una sette piedi e nove treonce canna lunga ha il manico relativamente corto quindi non è la classica canna swing bait con il manicone lungo e quindi si adatta un po' è un po' la canna del big bait quindi io personalmente dopo per carità la trovo molto utile quando vado fuori dal range delle altre canne quando magari ho uno shadow piuttosto grosso da provare una piccola swim si diciamo che può essere una canna che può essere interpretata tipo anche da punching quindi certo un Texas un Tokyo rig piuttosto incazzato piuttosto importante se c'è da perforare delle cover certo ma allo stesso tempo può essere usata anche per chi magari non ha la canna specifica da swing bait perché magari le swing bait non le usa sempre perché magari non è ancora si è sentato infoiato su quelle range di esche però allo stesso tempo vista la grammatura che ha la potenza che ha gli può permettere di usare delle swing bait medie guarda io ho visto che è una canna che è stata molto usata e comprata anche da chi va in belly e può portarsi relativamente poche canne certo anche per il manico corto che ha non ti batte dappertutto e ti permette effettivamente è anche un po' flessibile in termini di range di grammature cioè riesce a lanciare abbastanza leggero e anche al limite quasi oltre credo che poi questa canna sia stata anche scelta per il nostro mercato anche perché strizza decisamente l'occhio a tutto quello che è poi la pesca al luccio assolutamente sì e quindi è una canna anche spinneroni anche roba di quel genere là io non pescando il luccio però penso che una canna da tre once di questo tipo possa rientrare sicuramente tra le scelte da fare certo che sì per pescarlo va benissimo soft swim si possono fare veramente tante cose una di quelle canne che magari col tempo gli trovi davvero tanti usi ed torna molto molto utile in tante occasioni tante volte ti dico ho lasciato a casa canne più specialistiche per portarmi via quella e andare via con una canna sola certo o due bene poi che cosa abbiamo aspetta poi rimanendo nella serie casting e come hai detto te canne specialistiche specialistiche c'è una moderate ossia una canna che è stata pescata dalla serie winch però fatta nella serie veritas come la interpretiamo quella canna è una canna fa vedere sette piedi cinque ottavi sì medium crank assolutamente direi medium crank si la si può usare per quell'uso lì una canna appunto un po' più regular un po' meno più tonda diciamo e sarebbe da valutare anche magari con delle chatter magari meno meno grandi sì non quelle estreme gigantesche ma sì una cosa un po' più compatta potrebbe che si usano e sono anche molto efficaci tra l'altro quindi fa il caso sì quindi roba che fa una resistenza media esatto come è una canna comunque utile agli scopi entriamo adesso nelle canne da spinning e apro qui una piccola parentesi di cui parlavamo anche insieme queste sì sono canne che nascono da bass fishing ma trovano nel nostro paese dove ci sono una grande varietà di pesche anche tante altre applicazioni sì può essere la spigola può essere in generale tutta la pesca marina che richiede una canna da spinning da mezza oncia o 5 ottavi che sono le misure più utilizzate quindi abbiamo una 6 piedi a 9 quindi 2 metri 0,5 da mezza oncia 14 grammi una sempre da mezza oncia che è questa fast mentre un'altra mezza oncia extra fast quindi abbiamo praticamente sulla stessa circa la stessa lunghezza circa la stessa grammatura due azioni leggermente diverse e poi ne abbiamo una 7 piedi 5 ottavi in realtà caro Sandro tu mi racconti che l'azione comunque che abbiamo visto sulle casting che sono molto versatili perché non sono estreme non sono iperdure non sono iperreattive torna molto utile anche poi nei grezzi da spinning sì certo allora ero un po' scettico io prima di provare queste canne da spinning perché pensavo visto il prezzo che fossero canne un po' più sorde un po' più ignoranti e invece è stata una piacevole sorpresa se ho visto che appunto nel casting mi garantiva davvero performance sensibilità eccetera eccetera ho notato che poi sulle canne da spinning ma questo lo testimoniano anche i ragazzi che spesso vengono in barca con me che le hanno provate e hanno detto tanta roba tanta roba sì 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 sono d'accordo decisamente delle canne da prendere seriamente in considerazione ripeto dal momento che ci si vuole fare magari una bella serie completa di canne da pesca poi non dico che bisogna avere assolutamente tutti questi modelli però magari certo io sono uno di questi che preferisce magari sposare pochi modelli e farmeli magari doppi se non trippi a volte addirittura assolutamente perché sì sono delle canne poi questo è un range come hai detto te di canne da spinning che esce anche un po' dal contesto dell'uso da bus sì si possono fare tante cose cioè lo spinning effettivamente poi ha una varietà molto ampia diciamo che da predatori può andare bene poi io sono reduce da poche settimane dalla mia prima esperienza a Branzini con ciao Davide e mi sono divertito e vedrei benissimo queste canne anche appunto da ad usare assolutamente anche per il costo che hanno ti dico fanno fatica altre canne a andarci vicino in termini di qualità prezzo per cui consigliate e non solo ovviamente chi pesca a bus sono costruite comunque in un modo in cui tu hai una certa robustezza in termini di canna assolutamente che è un'altra cosa da non sovalutare perché poi in altri brand in altre gamme a volte si pecca un po' da sto punto di vista qua queste le ho usate pure io e effettivamente puoi effettivamente andare ad alzarti un attimino sia qui diametri che con la treccia che un quant'altro senza aver paura così come puoi invece usarle un po' più finesse e reagiscono bene sì sì assolutamente quindi questa diciamo che è una una gamma fondamentalmente che ci permette di proporre al nostro cliente medio che può avere delle necessità diverse a seconda di dove si trova a seconda di che situazioni ha comunque un qualcosa di completo nel senso e delle canne anche molto performanti su tanti contesti differenti insomma sì certo beh tu ovviamente ne sai più di me perché le hai usate tantissimo sì ma adesso non so se ne possiamo parlare o meno però come tu ben sai io uso anche la sorella sia quella nera che la Veritas Tournament che la faccio vedere sulla carta viene presentata come il next level di questa serie qui c'è una canna un po' più alta di di prezzo ma io le tiro fuori alternativamente sì perché mi trovo ho affinato davvero un feeling con questa serie di canne quindi a volte queste per esempio neanche le tiro fuori e uso solo serie bianca ma guarda ti dirò allora noi quando ovviamente abbiamo fatto l'import dell'America abbiamo importato anche delle Tournament Edition che possono essere comunque in integrazione della gamma andatele a vedere anche queste sul sito abbiamo importato delle winch abbiamo importato insomma anche dei modelli dei pro model abbiamo visto però effettivamente la serie bianca resta la base e se come si può dire se vengono usate imparate e gestite come si deve sono canne che possono dare tantissime soddisfazioni guarda ti racconto questo piccolo aneddoto durante la YPC Bus l'anno che venne Mike Giaconelli a pescare in barco con me usò la canna da un'oncia per pescare a chapter bait perché non l'aveva mai provata ok penso a te non l'aveva mai provata e durante le prove l'ha usata usata la mia infatti se voi andate a vedere in gara usa questa canna qua per pescare per per quello dico che comunque sono state probabilmente pensate bene ma hanno trovato proprio una buona riuscita io credo che Abu ci abbia perso il giusto tempo che serve per creare una linea di canne così perché appunto questa è una canna che è stata pensata e presentata in America in primis in America non è che puoi sbagliare una serie di canne per il grande uso che hanno lì quindi adesso tu che mi stai poi mettendo questo mulinello rosso su questa canna bianca è un match della madonna figata allora diciamo che aggiungo ancora carne al fuoco in parte che è una figata pazzesca comunque a parte questo il fatto è che in America in particolare il range quel range di canne di questa fascia di prezzo è quello più importante assolutamente mentre per noi noi andiamo a vedere magari le fasce alte top di gamma beissimo perfetto nascono delle tecnologie che poi vengono portate giù però per l'americano che è uno che le canne se le mangia nel senso che hanno dei volumi pazzeschi di produzione e la maggior parte della gente si orienta su questo tipo di fasce di prezzo questa è la categoria più competitiva e quindi per un grosso brand come Abu avere cioè tante volte qualità prezzo sono meglio queste canne qua ovviamente che non le fasce medio alte 300 400 500 e qualcosa cioè danno molto di più in proporzione a quanto si va poi a spendere niente di meglio perché questo dà la possibilità tante volte ho magari dei clienti che spendono magari 300 400 500 euro per una canna da pesca e tante volte mi verrebbe da pensare che sarebbe meglio che si comprassero tre o quattro canne di questa fascia che a giorno d'oggi veramente ti danno c'è il problema dei migliorativi incrementali all'aumentare del prezzo che diventano sempre più piccoli per avere qualcosina in più spendi molto di più effettivamente e non è detto che quel qualcosina in più sia quello che effettivamente poi ti fa la differenza no ma lo si è visto adesso bisogna essere sinceri non è una cosa che lo si trova solo su su Abu negli ultimi anni molte aziende hanno incrementato la qualità nel prodotto medio assolutamente perché hanno visto che il prodotto medio è quello più largamente usato venduto eccetera eccetera quindi ci spendono molto tempo ci studiano parecchio sopra non fanno le cose a casaccio è una situazione molto diversa magari da quella che poteva esserci 15 o 20 anni fa dove non c'erano neanche i materiali dove non c'era neanche lo studio sufficiente bene io direi che su queste canne abbiamo fatto un bel escurso aggiungo una piccola nota visto che abbiamo parlato dell'import america che abbiamo fatto di queste canne ricordo il nostro gentile pubblico e clientela che abbiamo anche tantissime esche molto fighe da andare a vedere sullo store tra cui tutta quanta la gamma McShant abbiamo tutti quanti gilli di berkeley esatto abbiamo colorazioni e tipologie di artificiali magari diverse da quelle che sono comuni insomma c'è tanta tanta bella robetta quindi andatevela a vedere sul sito e vi lascio tutti quanti i link così potete sfantazzarvi e divertirvi io direi che abbiamo fatto un bel lavoretto bye bye ciao 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 Grazie a tutti.